oh buono te l'ultima vista insieme era il derby e beh ma il derby dell'anno scorso sì mamma mia regale sono cambiate tante cose il toro il toro giacciami le palle giacciami le palle 2 a 0 l'autaro ragazzi voi non lo vedete ma lui ecco lui questa cosa con la sforza della giornata mele la franca o contattateci perché vi stiamo sponsorizzando è stra buono ragazzi no contattateci perché così ci ne mandate gratis che non c'è uno sponsor ma anche ma raga vi giuro avete presente come le toniche di vino succo di mea del fiuli dovete venderlo in tutta italia esatto perché mi tocca la del fiuli per prendere sto succo la vedo pigia ma che cazzo spiegami questa tua iniziativa mi devo proteggere da tifosi di squadre di merda tipo quella che è addosso buon divertimento mi smalto da essere squalificato anche se era un giocatore del milan ai tornava nel 2024 ma tanto magari vinciamo 1 a 0 fa un gol crumic e non forciato da 30 metri ce lo annunano per farlo al quinto minuto del primo tempo sì rovesciato l'area 30 crumic ma che universo è? 433 è cosa? trova l'intruso in attacco stavo dal meccoso ma poi perché 433 raga? cioè hanno sbagliato la grafica non è possibile aiuto quest'anno vincerà sempre avete visto ieri sera che grande prova di carattere a londra a parte la fuorigioco pieno quindi vabbè ma sono spagnoli la presa mi sa con la mano di richiamo porco mi sa che magnan non gioca più anche quando si riprenda grande salame grande ragazzi e poi devo chiamare sì però ternandes c'è troppa semplicità stai giocando eh saliva Kips si vabbè no è vabbè no è Abraim no è Abraim si è Abraim perché non le fasse cose se le mette senti fischi su terra eh se ne mette quasi un tiro what the fuck? non fagli buona lui le cose inutile che fasse le makers fallo a palla lontana perché? fallo inutile proprio senza senso e chi lo fa del Milan goal? è stata per usare è scritto caccio di rigore lo batte lui micchia certo ci hanno sbatti tipo di fischiarlo anche magari quando tocca un minimo palla e poi smettono subito bell'atteggiamento aggressivo aggressivissimo si vabbè vabbè carolo si vabbè 350 netti di mancio ma è angolo fra bastardo savic pistolino suare ma perché non ci succhi il cazzo potentemente madonna che Hernandez ha preso il difensore mi sono anche lui che sei carolo in testa? vaffanculo ragazzi la butto lì no no non la butto non la buttare è rischiosa sta partita non saprei un pronostico azzeccato sei sotto il succo di mea e mi sente il succo con l'effetto di minecraft è morto il vampiro no il pistolino oh ma ha messo su un po' di buzzetto o sbaglio? eh mi sa che è eh signorino ti piace mangiare la sarciccia? con un giro per girù per aver fatto cosa? ora al primo fallo al primo fallo devi ammonire qualsiasi giocatore dell'Atletico lo faccia al primo eh no questo è gol questo è gol questo è gol questo è gol bravo Ale bravo al 32 di fallo oh bravo lo finisce hai portato la scarpa ma ragazzi ma sto altro qua questo è anche un fallo tattico oh no ragazzi ancora arbitri contro io non ho parole ragazzi ancora arbitri contro questo è giallo tutta la venta percorso ma aliasse che cazzo mi fa la mette? come si chiama sacca? eh ovviamente il nostro veramente eh c'è nessuno forse si dai almeno ci ha provato mi è venuto male fuori di quattro mesi mi è venuto male va bene io capisco che Hernandez vuole fare il gol della vita però sto appena ma ma che palla girù 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 modello di Tumau ha segnato il Liverpool bene Krunic prova a lui ma ce la segna a noi che cazzo fai Krunic? non ho parole il mio non arriva in aria non so cosa ci faccio qui oh un drago era lascia ancora i luci fagli che fischia sono nostri oh oh fa lo sobra in diazze cazzo e se non lo ammunisci sei una merda dimmi come è giallo sto qua dai t'ho detto 0-0 ha finito il mio tempo t'ho detto oh chiamami il nostro adatto intanto Lizzy ha fatto il poker cara il poker a bruja voglio approfittare dell'intervallo ragazzi per dirvi che il singolo della mia band Gli Adrenaline Rush è finalmente disponibile su tutte le piattaforme potrete ascoltare il nostro brano su Youtube su Spotify su iTunes o se avete comunque sia l'abbonamento ad Apple Music potete metterlo nelle vostre storie di Instagram potete addirittura farci i TikTok prossima settimana uscirà il video ufficiale quindi state connessi perché sarà un importante step per la nostra carriera menzionatemi nelle storie tutti i link sono in descrizione e sarebbe per un piacere che voi ascoltaste il nostro nuovo brano bene dopo questa piccola interruzione pubblicitaria io tornerai alla partita c'è un pallone in più ne va a occuparsi Tataruzano ha capito che lavoro deve fare vai tiro ha sentito un po' raga la cirugia ammonito no 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 raga non puoi far bastardo un'altra volta Suarez no goal 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 tata dovesse passare più fare con un'impresa nell'ultime 31 numero di Griezmann Griezmann no Dino oddio no è rimesso al fondo no rompere i coglioni ma tu ci vuoi di ravagnare tanti per Madrid sei sempre tu ma come fallo fra si ma c'è un non si arriva in area una volta che ci si può arrivare a fischiare un fallo ma che è è un fallo lo vuoi essere i makers è il sconto eeeh tata tata esman no bravo Teo oh ha detto una volta che ci vuole magari una volta buona che lo toglie ho capito che oggi tra chi mese in giro non c'è più simpatia eh e ovviamente ha fischiato il fuoricioco no ah ginocchiate nella schiena aah se ho visto bene aah far valino bene manca il gol nostro abbiamo fatto un tiro in porta da 30 metri in 55 minuti ok bravo bravo Sandrino e ma Salma Kers Salma Kers e lo trovi per Salma Kers non deve fare il calciatore Salma Kers e te l'ho detto che non deve fare il calciatore lui si apposi Salma Kers subito ah ok no che stava a vedere che cazzo stava qua che si non mi dì che ti dà 50 metri si ma applaudo i pioli eh ci sta comunque per esempio i passaggi sono panni sti qua guarda 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 va Giru e non fischi a fallo il bastardo bravo ha fatto un tocco in più fra non fai entra Ibra per favore eh oh qui lo ammonisci fra eh ha fatto anche oh e te fai giallo fra no no non tirare Teo non tirare Teo Teo no clear Romagnoli non è riuscito a tirare basso il pallone non era clear frate Romagnoli ha tolto il tempo clear ma non lo fischia raga oh incredibile 2-0 Liverpool Ternandez ah come fallo dentro messias e bacaglio co messias e bacaglio co messias e bacaglio co ma sicuramente sta togliendo tonali per mettere bacaglio co perchè messias Lorenzi il Dio di tutti i ori so messi è fatto male due mesi fuori 4 campi insieme perché si è fatto male il Giroud vai Ale due mesi fuori è entrato Ibra ma tanto qua mi sa che c'è trippa per gatti ok dico ha fatto un fall ha preso giallo si anche l'entrata di giallo questi bastoni hanno fatto 54 falli in giallo solo per tutto l'Atletico Madrid buono Obrahim fischi il fallo perchè sei le makers ancora in campo? Ibra come ha visto come vada a specare attenzione tocco per lui che si che si cosa ha preso si salva l'Atletico nooo incredibile occasione il gol della vita ma poi perchè non ha tirato messias ralo salavandra teo bastardo sei inciampato 4 troppo educato da Caio Coppa oh però se gioiamo con me i 10 minuti contro l'Inter oh ma che sta succedendo a Messias? come giocano per lo 0 a 0 sti bastardi? sale makers si porta il pallone per 50 metri mamma mia quanto l'odio anche Suarez qua dentro Griezmann data provato De Cuolo no De Cuolo vai Brahim cerca l'altro Brahim o vici fallo oh ma che cosa sta giocando bene a parte il tiro e la pisciatina che ha fatto lì ma oh Brahim diazzi ragazzi cioè è qualcosa incredibile a cercare il tiro Florezzi e Ibra dice ma non era meglio di cross lui a Roma ancora di lì li faceva contento di aver preso Benna Sera e Nonsensi a partire dal fatto che Benna Sera gioca 12 qui recupera la fine si si te pensa a a passare sto girone vai non lo fa su un girone mai l'ho detto ad Augusto che non lo fa su sto girone fallo oh li sta fischiando era un miracolo paracchi lui conosci non davvero io sto qua avete vinto raga avete vinto un pippone fece un autogol in un amichevole Chelsea Inter vinta da noi 2 a 1 fece un autogol da scelta si se lo scorda ma come giocano il penno a 0 a 0 sti qua non mi dica te che non ci sta neanche più provando vai Isma il lancio Ibra e il lancio è lunghissimo dall'altra parte è intrendibile è veramente un po' incomprensibile perché questo perché perché vedi dominare una partita e non vincere Chier perché hai fatto questo intervento a vuoto no grande flore non c'è fallo non c'è fallo fra non c'è fallo lo sarei me che mi sei sempre a combinare dei casini ti d'accordo che mi ero in campo e prendiazze 5 minuti 5 minuti bravo vai Ibra 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 no che miracolo cosa ho preso ma perché non c'è un pote sul pallone bravo bravo bella intuizione ma rimetto l'altra parte siiii 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 messi 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 siamo vivi messi 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 da crotone messi da crotone messi da crotone annullatelo per un fuorigioco merde è tanto una giocata che ha fatto ma poi di sinistro di prima giro messi da crotone pullman pullman brum 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 pullman vabbè lo dobbiamo fare il derby l'abbiamo fatto ora due volte in vantaggio con l'atletico in vantaggio il Liverpool e siamo ultimi ma se vivo una gioia anche per noi una volta Isma Isma Ibra 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 ha battuto Nablac forse la falla o lascia giocare arbitro fuorigioco Ibra però può giocare a 70 minuti ha partito fuorigioco eh Cabrasco no Iorenca alimenta metto in mezzo panicalo mamma mia no no un correa che cazzo ti hai mangiato eh vabbè la prospettiva la vera dall'altra parte la mia faccia è quando ho visto che è entrato messias perchè mette messias e siamo agli ottavi noi dico l'Inter eh dai l'ultima palla è nostra forse dai ci siamo quasi vedi a giocare per lo 0 a 0 brodi non c'è nulla c'è nulla c'è nulla c'è nulla c'è nulla Correa bene è finita è finita è finita siamo vivi a metà il Milan al Vanda metropolitano il Milan è ancora in Champions che cazzo ci fa Kratos nello stadio? lo vedo sempre grazie grazie grazie